E' una grande emozione e una grande responsabilità. I cittadini laziali hanno eletto il Consiglio regionale e fra loro c'è anche un 23enne che oggi avrà la responsabilità di rappresentare i giovani, i ragazzi, gli studenti, gli under 35 che fino ad oggi non hanno avuto rappresentanza in questo Consiglio. Quindi grande emozione, grande responsabilità e grande voglia di iniziare. La prima cosa che farà la Luzio? Sicuramente, come ho detto, il tema dei giovani, quindi parliamo di diritto allo studio, è una delle prime misure che dobbiamo attenzionare. Dobbiamo valutare se i servizi che attualmente la regione eroga sono soddisfacenti per i nostri studenti e lì dove vi sono criticità dobbiamo immediatamente intervenire per sanarle.